Buonasera ragazze e ragazzi, per sicurezza benvenuti a tutti in questo video Ask, mamma mia non giravo un Ask da tantissimo tempo, stasera mi sono preparata una camomilla perché in realtà sarà inoltrata, ho già messo i bambini a nanna, Riccardo lavora e quindi ho detto vabbè, quale serata migliore per avere un pochino di silenzio e rispondere in tutta tranquillità a tutte le vostre domande, tra l'altro sono state tantissime, non me l'aspettavo, forse anche perché era un po' che non facevo il video Ask e quindi direi di iniziare subito sto sorseggiando una bella camomilla calda, così mi porto avanti poi per andare a dormire perché dovrò proprio solo più far uscire i cani qui davanti, chiudere tutto e andare a nanna, sono già chiuso tutto, tutto pronto per andare a dormire, infatti sono in tenuta molto coccolosa, quindi mettetevi comode, magari fatevi un tè, una tisana, qualcosa che vi piace di caldo e così ci teniamo un po' di compagnia. Direi di iniziare subito dalla prima domanda che è appunto, ciao cara, stai ancora facendo la dieta della dottoressa Paola, in realtà a questa domanda ho già risposto in qualche vlog che magari appunto questa ragazza si è persa perché ho già detto in diversi contesti, magari forse facendo vedere uno suota la spesa, queste cose qua che non sto più seguendo la dieta, non seguirò non perché sia la dottoressa Paola, attenzione perché mi sono trovata benissimo con lei, è proprio un discorso mio personale, nel senso che ognuno di noi attraversa delle fasi nella vita e io sono nella fase dove non riesco a seguire quello che mi viene detto, cioè nel senso sono più per il in questo momento fare, cioè tenermi, tenermi nel senso di non esagerare, di limitare tantissimo zuccheri, pane, cioè mangiare un po' di tutto ma in maniera molto molto controllata rispetto ovviamente a prima, nelle feste dove mangiavo, punto e basta, chi se ne frega. invece adesso sto cercando di limitare le dosi, quindi di pasta, patate, pane, zuccheri e credo che questo mi basti per vedermi meglio perché non voglio chissà quale trasformazione, voglio semplicemente sentirmi meglio io a livello proprio di salute, quindi sto cercando di fare un lavoro del genere proprio con me stessa, lo sta facendo anche Riccardo, quindi ci stiamo sostenendo a vicenda, quindi insomma non voglio entrare nel merito, anche perché non sono una nutrizionista, non sono nessuno, come vi dico sempre sono esperienze mie personali e vi dico quello che faccio, però al momento non sono seguita. Seconda domanda, come riprendere in mano la propria vita dopo due gemelli di tre anni e venti chili presi, rischio la depressione. Allora, argomento delicatissimo perché non ho le competenze per darti questo consiglio, uno perché non ho mai avuto due gemelli, ho avuto degli amici che hanno avuto dei gemelli in passato, cioè più che amici colleghi e ricordo appunto che si facevano aiutare tantissimo da parenti, amici eccetera, perché lo trovavano veramente snervante, pesante eccetera, perché comunque sono due bambini piccoli della stessa età e a volte dura con uno, quindi mi posso solo immaginare due o più, quindi non so dirti come riprendere in mano la tua vita, quello che ti posso dire è che comunque anche io sono mamma di due bambini, anche se molto diversi di età, perché comunque Federico ha undici anni e mezzo e Alessandra ne ha quasi cinque, quindi insomma ci sono sette anni di differenza e quindi da un lato ho un aiuto, perché comunque Federico è grande, mi aiuta, quando ho bisogno di qualcosa posso chiedere a lui e lui chiede a me, cioè nel senso un aiuto reciproco, quindi c'è molta complicità tra di noi anche per questo, è sempre stato un po' il fratello maggiore, quindi io l'ho vissuta in maniera diversa da te, quello che ti posso consigliare che ho vissuto sulla mia pelle è che è molto importante e prenderti, ritagliarti in qualche modo sempre del tempo per te e per il tuo compagno marito, quindi ritagliare sempre dello spazio personale e di coppia, questo è fondamentale secondo me per il cervello di una mamma, perché alla lunga dedicarsi solo a doveri, responsabilità, figli, casa e lavoro, se hai anche lavoro c'è da impazzire, c'è da impazzire, bisogna anche, cioè secondo me i bambini, i figli sono un valore aggiunto, non devono essere un limite che hai il figlio, non puoi più far niente, assolutamente no, basta imparare a gestire e tutto, anche se poco, ma si può, secondo me basta volerlo, quindi questo è l'unico consiglio che ti posso dare e per i io, appunto, non mi paga nessuno, però ti consiglio tanto a dottoressa Paola, perché lavora anche online, quindi magari se non hai tanto tempo di andare, spostarti, eccetera, è davvero una super dottoressa, mi sono trovata benissimo nel mio percorso, se vuoi qualcosa proprio di mirato e sentirti bene con te stessa, se no inizia appunto a fare come sto facendo io, è iniziare magari a tenerti, a farti un diario alimentario, per esempio ne ho uno che da domani vorrei seguire, dove me l'ero preso per appuntarmi quello che mangiavo, perché il nostro cervello così facendo, quando vai a rileggere quello che hai mangiato, tra virgolette per assurdo, ti fai un'autoanalisi e quindi capisci dove sbagli, capisci dove devi migliorare, quindi secondo me è molto utile, un quaderno, anche se avete un quaderno bianco, scrivete il giorno e cosa mangiate, colazione, pranzo, cena, spuntini, aiuta tantissimo e anche come vi sentite, magari potete fare un angoletto sotto di come vi siete sentiti quel giorno e associare il fatto di oggi ero nervoso, ho mangiato male, oppure oggi ero felice e quindi sono riuscita a controllarmi meglio, per dire, quindi vi aiuta a analizzare un po' il vostro lato sul discorso alimentare. Poi una ragazza mi chiede come stai sinceramente? Ragazze, io nei vlog sono sempre abbastanza sincera, quando è proprio una giornata nera non me la sento di vloggare quasi mai, c'è invece la volta dove è una giornata nera ma ho voglia comunque di parlare con voi, quindi vi dico la verità, è un periodo in cui sto bene, molto presa dal discorso lavoro, perché oltre a YouTube sapete che ho anche la parte editing video, maker, fotografa e quant'altro. Tra l'altro a breve vorrei fare un paio di capi, sempre per me, per quando lavoro, per non andare vestita come quando vado a spasso, vorrei farmi fare una maglietta personalizzata e una felpa personalizzata con il mio logo, il mio nome e il mio cellulare, così da far vedere anche in giro come sto lavorando. Perché vestita così, come quando esco, vestita magari bene, ma come quando mi vesto in privato non mi fa impazzire, quindi stavo valutando questa cosa qua. Comunque a parte questo sto bene, sto bene, è un periodo bello, adesso poi ho appena festeggiato anche il compleanno di nonna, quindi sono molto serena perché ho visto la mia famiglia, io quando li vedo sto sempre bene, sono sempre contenta e anzi, vi dico la verità, quando vanno via c'è sempre quella sorta di tristezza, quella sorta di nostalgia, un po' di malinconia, ecco, come quando ero bambina, quando arrivavano i nonni, ah grande festa, poi quando li vedevo andare via con la macchina dalla finestra mi veniva quel magone di è tutto finito. Penso l'abbiamo vissuto un po' tutti, no, questo, quindi ancora ora, un po' come quando ero bambina, quando vanno via tutti, la festa finisce, c'è sempre un po' di tristezza perché poi non è che li vedo proprio tutti i giorni, quindi un po' mi dispiace. Un'altra domanda che mi era anche stata già fatta, mi pare, da qualche parte, come mai il tuo tenore di vita è cambiato così tanto in positivo da quando è cambiato casa. Allora, non è che il mio tenore di vita sia cambiato così, perché ho ricevuto una fortuna da qualche lontano prozio in eredità, assolutamente no, semplicemente perché la nostra vita proprio è cambiata a livello lavorativo, quindi a differenza di quando ero a Torino, adesso io da quando sono venuta a vivere qua e poco dopo ho aperto la partita IVA, ho iniziato il mio giro, con YouTube è andata un po' meglio, ho iniziato appunto a lavorare per conto mio con aziende, imprese, eccetera, per fare video pubblicitari, fotografie a privati e non, quindi ovviamente l'incremento è aumentato tantissimo, il lavoro di Riccardo comunque sta andando molto bene, ha un buon lavoro che si è modificato quando ci siamo proprio trasferiti qua, perché ovviamente non è lo stesso identico che aveva a Torino, ma si è avvicinato, quindi lavora proprio vicino casa e quindi può andare a volte in trasferta, a volte no, quindi c'è un pagamento diverso se va in trasferta, quindi ci sono state tante modifiche anche per quanto riguarda il nostro lavoro, specialmente per me che comunque ormai Alessandra è cresciuta, ha iniziato la materna comunque dopo che ci siamo trasferiti qui, un anno dopo che ci sono trasferiti qua, perché il primo anno di Nido l'aveva perso e quindi è iniziato poi direttamente la materna, quindi comunque io ero più serena, più tranquilla, lei è più autonoma, sa fare più tante cose, quindi mi sono finalmente lanciata di più nel mio settore, ho approfittato del fatto che la partita IVA è stata aperta per YouTube, sì certo, per continuare a potervi portare dei contenuti dichiarando i miei guadagni, perché così va fatto ragazze, il commercialista mi ha appunto specificato che questo purtroppo è un settore dove va fatto, perché comunque Google è un'utenza pubblica, quindi è difficile, purtroppo è impossibile lavorare in nero, quindi bisogna dichiarare quello che si guadagna e quando le cifre sono diventate un pochettino più sostanziose, ho dovuto aprirla per continuare a darvi dei contenuti che sono quelli che appunto vedete da due anni a questa parte, continuare così come era già prima e in più appunto tramite il commercialista mi sono fatta mettere un ulteriore codice a Teco, perché il mio mestiere, i miei studi sono fotografia e grafiche e quindi ho detto sai che c'è? è il mio momento, cioè quale occasione migliore per finalmente lanciarmi e quindi ho iniziato da piccole cose come magari le attrezzature che avevo fino a poi guadagnando, potendome comprare di nuove e mi sono lanciata finalmente, ho fatto i bigliettini da visita con il numero di partita IVA, insomma ho avuto le mie prime soddisfazioni ragazze, quindi tutto è anche dovuto a questo, cioè è stata un po' una coincidenza che si è capitato col trasferimento, semplicemente quello è anche la crescita di mia figlia che comunque mi ha portata a sentirmi più libera nel buttarmi nel mondo lavorativo e sono felicissima che sia nel mio settore, cioè mi rendo conto che ad oggi sia una gran fortuna e quindi mi ritengo assolutamente fortunata. Un'altra ragazza di voi mi chiede come fare a risparmiare? Scherzo, viaggio dei tuoi sogni e quello di Ricky? Allora come fare a risparmiare? Ad oggi è sempre più difficile risparmiare perché ci sono dei rincari pazzeschi ragazze, quindi veramente non so neanche noi come facciamo a volte, anche noi non riusciamo a fare miracoli, quindi non credo di essere la persona più adatta a darti consigli al momento in sua situazione attuale, però viaggio dei miei sogni, come vi ho detto forse anche già su Instagram, io sogno da sempre di andare a New York, New York, San Francisco mi piacerebbe proprio, ma New York specialmente e soprattutto nel periodo natalizio, cioè questo credo che sia il sogno di una vita, cioè penso che sia veramente il sogno più bello come viaggio che potrei realizzare. Mi piacerebbe anche tanto andare alle Maldive, ho visto degli hotel diciamo caratteristici delle Maldive anche attraverso altri vlog che vedo in giro su YouTube di capannette circondate dall'acqua, un'acqua trasparente, bellissima, c'è una roba da sogno, quindi diciamo che posto caldo mi piacerebbe tanto vedere finalmente queste Maldive con delle guide che magari ci fanno fare sub, che ci fanno fare delle attività caratteristiche, però vi dico la verità questa è una vacanza che vorrei tanto fare o di coppia o comunque quando Alessandra è più grande, perché comunque con Fede avrebbe già un senso, con Alessandra secondo me è ancora un po' piccolina, anche solo tra un paio d'anni, magari alle elementari, però adesso non me la sentirei ancora alle Maldive, non so perché, poi magari è una mia idea sbagliata, perché magari voi mi dite ma vai, ho avuto un bimbo di due anni, sono andata alle Maldive, è andata fantastica, non la vedo proprio, magari ci sono dei villaggi vacanza dove c'è anche un'attività per bimbi più piccoli, non lo so, sicuramente c'è di tutto, però diciamo che me la vedo più una cosa da viaggio di nozze, una cosa da fare il relax di coppia, ecco quindi capiterò mai, ma anche New York lo vedrei un po' stressante con una bambina più piccolina, però magari negli anni chissà, quando sarà un po' più grande, speciale. Poi, quello di Ricky sinceramente non lo so, so che a lui manca tanto la Sicilia, quindi al momento credo che il suo desiderio più grande sia andare giù, spero realmente che quest'anno riusciremo ad andarci, perché l'anno scorso abbiamo dato la priorità alla festa sorpresa di Federico, perché sapevamo il suo grande desiderio di andare a Gardaland e vi dico la verità, ci è costato quasi 1000 euro andare a fare due giorni e mezzo a Gardaland, cioè veramente tra i cani, tra il viaggio in auto, l'autostrada, la benzina, l'hotel, che comunque era un hotel un po' particolare con la piscina, neanche tanto lontano da Gardaland, insomma non vicinissimo, ma neanche lontanissimo, comunque vicino al lago di Garda, quindi immaginate. Insomma, tra tutto quasi 1000 euro, pazzesco, ma sì, tra gadget, regalo di compleanno, perché non è stato questo il viaggio, il regalo per Federico, ma li abbiamo fatto anche in regali, quindi veramente c'è partito un rene, quindi ci costava veramente meno andare una settimana giù in Sicilia. Abbiamo proprio unito l'utile al dilettevole, nel senso che era un desiderio di fede, ma sappiamo anche che Alessandra, avendo 4 anni, è impazzita, specie quando ha visto il villaggio di Peppa Pig, che devo dire è piaciuto anche a Federico, perché gli ricordava quando andò alle Olandia, vi ricordate? Per chi mi segue dagli antipoli, eravamo andati alle Olandia e anche lì c'era il villaggio di Peppa Pig, nonno Pig, Fede quando era piccolo andava pazzo per Peppa Pig, quindi quando ha visto quello aveva proprio gli occhi lucidi, perché gli è tornato in mente quando era piccolino, insomma, è veramente stato molto molto emozionante andare a Gardaland, quindi rispenderei anche il doppio per vedere quel sorriso con la faccia sorpresa che aveva per il suo undicesimo compleanno, quindi va bene così, però tornando a Riccardo so che gli manca il mare, quindi sicuramente è un posto di mare. Ciao Roby, film consigliati da vedere su Prime? Oddio, mi sono scordata di segnarmeli e quello che posso fare, magari mentre editerò questo video, vi metto qui magari due o tre titoli che a noi sono piaciuti. Noi guardiamo tantissimo i film thriller, comunque o di rapine, queste cose sempre un po' d'azione, quindi non vi consiglierò mai film romantici molto difficile, sono sempre un po' per questi film molto accesi, molto strong, molto di suspense, molto di adrenalina, drammatici anche molto mi piacciono, quindi il mio genere è questo. Cosa pensi del caso Ferragnez? Oddio ragazze, beviamo un goccio di camomilla perché è meglio. Facciamo due. Io adoro Cristiano Cervini, questo chi mi conosce già lo sa, e la storia l'ho letta da Instagram, dai reel, da tutto ciò che esce un po' sui social e ovviamente anche da Cristiano Cervini che adoro, i suoi spettegulesi, i suoi spilling the tea with me con Cristiano Cervini su questi schermi e adoro, adoro tantissimo. Che dirvi ragazze, io ho sempre adorato sia Fedez che Chiara Ferragni, i Ferragnez li ho sempre seguiti anche su Prime, il caso Sanremo, tutto quanto e vi giuro non voglio pensare che sia una cosa proprio studiata a tavolino. Voglio credere a questo errore di comunicazione, anche se in cuorri mio non ci credo. Mi dispiace un po' che ci sia stata questa grossa caduta in basso, perché comunque aveva fatto una splendida figura anche a Sanremo, con tutti i discorsi sulle donne. Mi dispiace proprio, mi dispiace tanto anche perché vi dico la mia, loro comunque al di fuori del panettone, del pandoro, dell'uovo di Pasqua, degli ovetti, tutto quello che volete, comunque loro hanno sempre fatto beneficenza. Vero è che magari l'hanno fatta anche per farsi la bella faccia, sicuramente magari c'è anche un lato strategico, però vi dico anche che ci sono anche tanti altri che non lo fanno, che cercano la popolarità facendo solo strontate, strompetate, facendo solo parolacce, quindi avete capito, e potrebbero anche non farla, cioè nel senso, secondo me esagerano anche i media un pochettino, anche il discorso della galera non ci credo, dei cinque anni di carcere non ci credo, perché si parla comunque di Chiara Ferragni e si parla comunque anche di una mamma e di una persona che ha sempre donato, che ha sempre fatto anche beneficenza del bene, cioè non lo so. Mi sembra tutto un po' troppo, però indubbiamente ha sbagliato. Ha sbagliato, doveva dire le cose chiare, chiare, chiare come sono e quindi forse avrebbe fatto più bella figura dire io dono un milione di euro al regina Margherita all'ospedale di Torino, che tra l'altro conosco molto bene e poi se vi va comprate il mio panettone per sostenere l'atto di beneficenza che ho fatto, avrebbe fatto più bella figura fare così. Però ragazze non so dirvi, vedremo come si evolveranno le cose, adesso gira la voce che ci sia anche una crisi tra fedezze chiara, ma credo che quando si affrontino delle problematiche così grandi sia anche un po' normale in una coppia un po' perdersi. Ecco, però vedremo. Ciao amica, ciao amica mia, come sta Nala? Domanda importantissima, ciao anche a Daron, non la sta bene, non la sta bene, anche lei ha la sua età, è vecchietta e adesso a giugno fa nove anni già, quindi invecchia la nostra analina, praticamente l'abbiamo presa neanche un anno dopo che ci siamo messi insieme io e Riccardo mi pare, l'ho presa ancora quando vivevo da sola e lui appunto non convivevamo, l'avevo presa quando vivevo con il mio figlio e quindi veramente, mamma mia, vola il tempo, già nove anni a giugno. Nessuna domanda, solo un'affermazione, siete delle belle persone, grazie di cuore, veramente, grazie mille. Ora che ci sono gli sconti, farete shopping? Se sì, sono curiosa di vedere gli acquisti. Allora, shopping con i saldi abbiamo fatto le scarpe dell'Adidas di Federico, che abbiamo pagato, mi pare, una cinquantina d'euro, 49,90, una cosa del genere, in saldo. Poi cos'altro ho preso? No, gli stivaletti che mi ha preso, che aveva pagato i fatti di 100 euro degli stivaletti in pelle, non erano ancora scontati perché era prima di Natale. No, altri saldi non abbiamo ancora sfruttato, mi sa. Sto pensando, ma per ora solo le scarpe, per Federico. Quindi vedremo. Comunque io avrei bisogno di intimo, avrei bisogno di reggiseni, avrei bisogno di pantaloni. Quindi, visto che in questo mese dobbiamo andare giù a Torino, penso un po' di volte, perché io devo andarci per lavoro, forse, però molto probabile. E poi dobbiamo andare giù anche per delle cose burocratiche, documenti, eccetera, quindi probabilmente sfrutteremo i saldi, perché ci sono ancora e ho bisogno di alcune cosine. Secondo me sei bella così, anche se non fai la dieta. Che amore, grazie, ti lobo. Hai mai voluto avere un fratello, una sorella? Assolutamente sì, l'ho detto tantissime volte, in diversi contesti avrei sempre sognato di avere un fratello maggiore. Maschio, perché mi trovo meglio, mi trovo meglio coi maschi, non c'è niente da fare. Cioè, nel senso, attualmente ho un amico, il resto amiche, che poi le più strette sono Silvia, che come vi dico sempre è un'amica storica che ho da 12 anni. E poi appunto Sara, che conosco da poco, perché la conosco da luglio, da quest'estate passata, però comunque sta diventando davvero una grande amica. Quindi, io sono dell'idea poche ma buone. Cioè, appena sento che un'amicizia non è sincera, mi passa la fantasia. Sono così, non ve lo nego, l'avrete capito anche nelle mie esperienze di amicizia. Ho ricevuto delle delusioni, come tutti noi, sono umana anch'io, faccio degli errori anch'io, ne hanno fatte altrettante le mie amicizie negli anni. E quindi, io appena sento che un'amicizia non è sincera, non riesco più a dare tutto quello che ho voglia di dare. Eccomi, appena sento un accenno di cattiveria, proprio mi ritiro. Ciao Roby, come è stato il ritorno dalle vacanze alla routine e i bambini a scuola? Assolutamente tutto bene. Poi Federico e Alessandra si trovano benissimo a scuola, siamo stati fortunatissimi sia con le maestre e professori, perché Federico è le medie e non si chiamano più maestre, ma professori. Però sono entrambi molto contenti di andare a scuola. Devo dire che ho due bambini che capricci per andare a scuola ne fanno praticamente pochissimi, anzi, quando stanno male non possono andare a scuola, sono tristi. E vi ho detto tutto. Comunque la routine è stata dura, principalmente riprenderla per la sveglia alle 6, perché mi ero abituata appunto a dormicchiare un po' di più, anche solo fino alle 8, le 7 e mezza, che cambia già un'ora e mezza. E la bellezza di poter andare a letto un po' più tardi, anche con i bimbi, poter vedere un film un po' più fino alle 11, 11 e mezza. E invece ovviamente con la scuola, 9 e mezza nanna, io mi faccio le mie cose la sera e poi la sveglia alle 6 è sempre un po' pesante. Un'altra ragazza mi chiede se è stata presa in giro e subito dopo hai sofferto di bullismo? No, no, proprio bullismo direi proprio di no. Forse c'è stato un piccolo periodo all'elementare dove c'erano sempre un po' i gruppetti e quindi c'è stato un periodo, ma molto breve, dove io ero un po' isolata da questi gruppetti. Cioè ero comunque in un gruppo, ma il gruppo un po' degli sfigati, mettiamola così, e quindi ho un po' patito quel periodo perché i belli della classe erano coalizzati in due gruppi e io ero nel gruppetto un po' degli emarginati, che anche lì è sbagliato. Non è che venivamo presi in giro, bullizzati o infastiditi, però comunque eravamo sempre un po' esclusi dalle cose più belle, diciamo, negli intervalli, nelle cose così. E quindi è stato un periodo un po' dove pativo, diciamo, ma niente di particolarmente eclatante, ecco vi dico la verità. Sono sempre stata abbastanza bene. Diciamo che le medie per me è stato il periodo più brutto, ma proprio perché non mi son trovata, proprio a livello di professori, a livello di comprensione, a livello di compagni neanche tanto, perché mi trovavo bene. Proprio un discorso scolastico, non mi trovavo, non mi trovavo con la scuola, non mi trovavo. Alle superiori la mia vita è cambiata, cioè si vede che ho trovato la mia strada, il grafico mi è sempre piaciuto, mi è sempre appassionato, ho trovato delle belle amicizie, mi sentivo grande, mi sentivo più responsabile, quindi lì la mia vita è cambiata da così a così, proprio ero contenta. Per sbaglio, ah ecco qua, è un messaggio doppio che non ho tanto capito, comunque, ho una bambina dall'età di Bubi che dopo la Befana ha avuto paura del buio, perché le uscirà la Befana, non capisco, per sbaglio l'abbiamo portata al falo della Befana del nostro comune senza sapere che poteva avere. Vabbè, da quel che ho capito questo falo l'ha un po' terrorizzata, però io credo che sono un po' fasi, insomma, penso che le passerà, penso che sia un po' un timore che come tutti i bimbi piccoli possono avere, magari con un po' di rassicurazione, magari leggendole qualche favolina sulla Befana, magari possa un pochettino ripristinare la situazione, ma purtroppo sono cose che possono capitare. Ti senti realizzata lavorativamente? Vorresti un altro bimbo? Eriki? Allora, mi sento molto realizzata lavorativamente da un anno a questa parte, devo dirvi la verità, proprio al di fuori, è di YouTube, appunto, come dicevo, per foto e video, comunque vedere il cliente soddisfatto, il cliente contento, il cliente che mi dice grazie, per me è proprio soddisfazione totale, totale. Per avere altri bimbi me lo chiedete spesso, ma no, io non voglio altri figli, non so se Riccardo ne vuole, non credo, nel senso che non per qualcosa, ma siamo entrambi d'accordo sul fatto che sia meglio fermarsi a due e poter dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno, che continuare a fare figli, perché per carità, quando poi anche Ale diventa grande, come mi è successo con Federico, la voglia di avere un cucciolino da coccolare, da amare, che lo prendi in braccio, che lo sbacciucchi, eccetera, c'è, cioè è proprio quella cosa di mamma che ti prende e dire, no, vabbè, che dolcezza, che tonorezza, anche la mia migliore amica, sapete, ha avuto una bimba da poco, quindi quella piccola voglia di dire, oddio, anch'io, così quasi, però bisogna essere razionali, perché comunque si sta parlando di una persona, mettere al mondo una persona è una grande responsabilità, mettere al mondo un altro bimbo, non so se ne avrei la forza, perché in questo momento della mia vita sento proprio che basta, cioè io ho dato tanto per i miei figli, ho dato tutta a me stessa, continuerò a dare tutta a me stessa, ma mi devo fermare qua, perché ho bisogno proprio di pensare a Roberta adesso, ho bisogno di pensare al lavoro di Roberta, sento la necessità con due figli due cani, di pensare a questo per ora, ad alleggerire questo, cioè nel senso, già continuo a dire che dopo questi due cani io ragazze non voglio più cani, perché mi mancheranno tantissimo, mi mancherà tantissimo avere cani, avere animali, specialmente cani, perché sono una da cane e non da gatto e adoro i cani grandi, per quello che abbiamo osato con Aaron, Aaron è tanto impegnativo, a differenza di Nala, Aaron è veramente tanto, tanto, tanto impegnativo e ti richiede una calma interiore, uno zen che non avete idea, per quanto sia dolcissimo, bravissimo, per il cane grande che è, è fin santo sto cane, a volte per tante cose, credetemi, non ci crederete mai più bravo di Nala, perché Nala è impestata, Nala adesso sta invecchiando, ma ce ne ha fatte vedere ragazze di cotte e di crude, voi non avete idea di quello che combina questo cane, magari un giorno ve ne parlerò in un vlog, perché sono qua, non finiamo più, però veramente Aaron è stato un grosso impegno, un grosso impegno, e nettamente, cioè la nostra vita sarebbe nettamente più semplice senza di lui, ma ci ha riempito i cuori, io me ne ero innamorata e volevamo tutte e due un cane grande, quindi abbiamo fatto questo grande passo insieme, però vi dico la verità, Nala ha già nove anni, e non ci voglio neanche pensare a quando ci lascerà, perché morirò dentro, morirò, morirò male, però prima o poi capiterà e rimarrà solo Aaron, che comunque è un grande impegno, si parla del diavolo? si, di te sto parlando, che sei la mia coccolina, eh? bene, e quindi... cosa c'è? aspettate perché forse vuole uscire, la faccio uscire un attimo, eccomi scusate dovevo uscire a fare i bisogni, e niente, quindi insomma, ripeto, non ci voglio neanche pensare a quando ci lascerà, quindi... però capiterà, prima o poi capiterà, purtroppo non è eterna, inizia ad essere vecchietta e rimarrà Aaron, ma dopo Aaron anche io per il momento mi voglio fermare, cioè se prenderò mai un altro cane, glielo ho detto già anche a Riccardo, ma a lui non piacciono, è un cane topo, cioè io di più non... un cane grande come Aaron non ho mai più, cioè non ce la faccio veramente, è tanto tanto impegnativo le ultime parole famose, poi magari arrivo con un San Bernardo quando hai tempo libero cosa ti piace fare? quando ho tempo libero mi piace tanto rilassarmi guardare o altri video, oppure guardarmi qualche serie tv in solitaria di solito mi piace tanto questo, cioè rilassarmi per me, guardare un film, una serie, mi fa proprio staccare, quindi mi piacciono tanto anche le serie quelle sulle ambulanze, che comunque lavoro volontariato, che ho fatto tanti anni e quindi mi emoziona, mi fa tenere proprio gli occhi lì concentrati, quindi mi fa proprio staccare la testa. Poi una ragazza mi manda un cuoricino, quindi ti mando un cuoricino anche a te. Ho visto il tuo ultimo video, è possibile avere la ricetta della torta bicolor? Allora sì, ti chiedo perdono perché ti dovevo rispondere poi mi sono dimenticata. Vi lascio la ricetta della torta bicolor, che tra l'altro ho preso da internet, quindi non è una mia ricetta inventata, ma è proprio presa dal web, però vi metto volentieri il link in info box, così trovate tutto lì. Adesso che hai ricominciato la dieta, condividerai qualche ricettina light? Assolutamente sì, anche perché ho il libro che mi aveva mandato la dottoressa Paola, Meno chili più sorrisi per tutti e quindi sicuramente qualche ricettina la prenderò da lì per così variare un pochettino, qualcosa lo vedremo poi insieme. E serie Netflix preferita del momento, la mia The Crow, io The Crow l'ho finito, è bellissimo, lo adoro tantissimo e quindi ovviamente anche la serie The Crow per me è stata top, specialmente la parte su Diana, perché io ho proprio una passione per Diana, per la storia che ha vissuto, tutto ciò che era in italiana a me piace, quindi la parte su Diana, nell'ultima stagione che hanno diviso in due parti, mi è piaciuta da morire, la storia con Al-Fayed e quant'altro. Però è un momento, più che serie, stiamo guardando miniserie, ne abbiamo viste due, un inganno perfetto, una cosa del genere, comunque se mi ricordo ragazzi vi scrivo i titoli qui delle due serie che abbiamo visto, le ultime due miniserie, bellissime, bellissime. Poi sto cercando di finirmi Emily in Paris, l'ultima, perché devo ancora finirla, insomma non ho sempre tanto tempo, quindi mi giostro un po' così come capita. Questo video è durato un'eternità, però magari farò qualche taglio qui e là, comunque io vi ringrazio tantissimo per tutte queste domande. Vi ringrazio perché veramente mi seguite sempre con tanto affetto, tanto amore e vi dico grazie. Colgo l'occasione per dirvi un mio pensiero. In questi ultimi giorni è uscito fuori in un vlog il fatto che io seguo Chiara Paradisi e una di voi è stata, un paio di voi sono rimaste contrariate, una specialmente mi ha un po' amareggiata perché mi ha addirittura scritto che l'ho delusa, perché non pensava che io seguissi Chiara Paradisi, che mi credeva diversa e quant'altro. Ragazze, a me dispiace tantissimo quando leggo queste cose perché veramente reputo questi veramente dei pensieri molto ottusi e chiusi, perché non significa che se io seguo una persona vuol dire che l'ammiro su tutto quello che fa. Cioè nel senso a me i video di Chiara Paradisi rilassano un sacco, i suoi Macbang mi rilassano un sacco, tra l'altro oggi ho guardato un suo video perché era un po' che non lo guardavo. Io ho dei momenti ragazzi, ho dei momenti dove magari per tre giorni la guardo e momenti dove non la guardo per due mesi. Cioè ci sono dei video che mi piacciono e altri meno. Però anche lei e mamma, io non mi sento di giudicarla così tanto come fanno in tanti. Ognuno di noi ha il proprio pensiero, sicuramente ha fatto degli errori, ma come tutti siamo umani. Ci sono persone, genitori e non che fanno errori più gravi, altri meno. Tutti siamo qui per imparare e sbagliamo. Sicuramente ha fatto i suoi errori, ripeto, come tutti noi, però questo accanimento io non lo capisco. Nel senso che bisogna vivere la vita di una persona prima di giudicarla. Non si sa che cosa lei provi, che cosa abbia provato, le delusioni che ha vissuto. E quindi giudicare così a prescindere. Cioè se uno fa degli errori probabilmente è perché ha delle mancanze, perché magari ha bisogno di un qualcosa dentro di sé che non riesce a trovare. Insomma non siamo nessuno. Cioè sì, purtroppo è pubblica, pubblica anche lei contenuti pubblici e quindi viene costantemente giudicata e purtroppo questo fa parte del gioco, di questo gioco, di questo sistema ed è così. Però io personalmente da mamma di due figli non mi sento di giudicarla e quindi la seguo. E se questo ha deluso alcune di voi mi dispiace, però come ho scritto nei commenti a questa persona, la sincerità non paga e come sempre ci sono solo pregiudizi e giudizi sulle persone. Perché io sono libera di seguire una persona magari quando fa il MacBank e parla di cose spensierate perché mi aiuta a non pensare quel giorno a qualcosa che mi dà il pensiero, ma posso magari non guardare il vlog dove ha portato un'estranea in casa con due figlie. Cioè per dire, a me piace il contenuto MacBank perché mi piacciono i suoi MacBank. Mi piace come fa il video, la qualità del video, l'audio eccetera eccetera. Ma c'è per dire. Tra l'altro oggi guardando un suo video ho scoperto che anche lei ha questo microfono. Infatti ho detto vabbè, se l'ha preso anche Chiara Paradisi dovrebbe essere un microfono di qualità perché non ci posso credere. Abbiamo lo stesso microfono, quindi vuol dire che magari se l'ha scelto lei che ha ancora più esperienza di me, magari ho fatto una buona scelta. Comunque in tantissimi avete scritto che si sente benissimo, quindi sono super contenta. Comunque questa è una piccola parentesi per dirvi alle poche, al piccolo angolo di non giudicare, di non giudicare queste sciocchezze perché mi avete scritto ah tu non c'entri niente con la Paradisi, ah tu non c'entri niente nel senso positivo, nel senso che secondo alcune le ha fatto solo cavolate, io sono una brava mamma, però non è da questo che si determina una brava mamma. Secondo me lei è comunque più giovane, lei ha comunque avuto esperienze diverse dalle mie, non è giusto giudicare così, quindi ragazze non mettetemi in croce perché seguo un McBank di Chiara Paradisi. Addirittura vi ho deluso per questo e allora se vi delude solo per questo fate bene a lasciare il canale. Detto questo io vi mando un grosso grosso bacio, grazie per tutte le domandine e ci vediamo prestissimo con un nuovo vlog. Ciao!